Aperto a Pordenone il nuovo parcheggio in Viale Dante caratterizzato da un grande murale dedicato alla città. Sindaco, non solo un nuovo parcheggio, anche un'opera d'arte urbana se così si può dire. Un parcheggio che serviva, qui c'era un edificio comunque storico, l'Ecchicamia Vigile del Fuoco, che per ora era del tutto inadeguata, era mai cadente. Quindi abbiamo battuto per fare spazio al parcheggio, per dare ovviamente un polmone ulteriore ai cittadini in vista soprattutto della rivitalizzazione della città e anche della presenza del mercato. Quindi una riqualificazione che mi sembra sia venuta molto bene. Insieme anche la volontà di valorizzare gli artisti pordenonesi, in questo caso giovanissimi, con un tipo d'arte, quella del murales, molto originale e molto particolare. Quindi si uniscono da un lato l'architettura, l'urbanistica, la riqualificazione degli spazi, non solamente dal punto di vista funzionale ma anche dal punto di vista estetico. Cristina Mirante, nuovo parcheggio Dante, quanti posti, che tariffa, che caratteristiche? Allora sono 32 posti, c'è anche il posto ovviamente riservato per i disabili, un euro e venti è la tariffa che è stata stabilita per quest'anno, poi valuteremo come va il grado di occupazione, insomma faremo delle misurazioni. Ci sono anche alcuni stalli che non ovviamente senza riserva di posto, ma sono garantiti con abbonamento, sappiamo che c'è già chi l'ha fatto, che consentono ovviamente a chi abita nella zona e non ha un posto auto o un garage di poter parcheggiare e trovare posto in questo ambito. Marco Gortana, Marco Sart, allora raccontaci questa opera d'arte urbana. Sì, è un'opera di street art, è stata realizzata con i trattomarker, i pilot quelli belli grossi perché appunto è un po' il mio stile di disegnare, anche se c'è della pittura. Mi piace lavorare in bianco e nero, quindi sì, ho deciso di realizzarla in questo stile. Comunque è un omaggio alla città di Pordenone che è la mia città natale. A realizzare il parcheggio per conto del comune è stata la società che gestisce la sosta. Insieme all'amministrazione comunale abbiamo deciso di dare un polmone legato alla sosta in considerazione anche degli numerosi interventi di riqualificazione che l'amministrazione sta facendo. L'area è sicuramente un'area importante, stiamo all'interno del centro della città ed è anche un termine di riqualificazione in considerazione dell'edificio. Non era proprio mantenuto in maniera, come si dice, adeguata e quindi di conseguenza abbiamo pensato insieme all'amministrazione di svolgere un'idea di questo genere.